Ecco, possiamo adesso entrare proprio nella parte tecnica del metodo dei minimi quadrati che abbiamo visto essere stato inventato da Gauss quindi il punto di partenza è il nostro modello lineare nei parametri qui scriviamo direttamente φ come abbiamo detto quindi anche se questa poi è una φ di U una volta che abbiamo costruito la matrice ci interessa solo questa matrice di numeri queste sono le dimensioni delle diverse matrici e mi serve ovviamente un metodo per calcolare θ essendo noti y e la matrice φ ecco, l'ipotesi che noi facciamo è che il numero dei parametri Q sia minore o uguale ad n Q ovviamente è il numero di parametri incogniti, n è il numero di equazioni questo lo potete vedere subito guardando questa matrice questa è una matrice n per Q e pertanto essendo una matrice n per Q capite che n è il numero di equazioni quindi qui è il numero di righe quando scrivete questo come sistema di equazioni lineari Q è il numero di incognite quindi noi ci muoviamo nel caso in cui il numero delle incognite è inferiore al numero delle equazioni diciamo, minore o uguale ma di norma prenderemo sostanzialmente sempre o quasi il caso in cui Q è strettamente minore di n questo è un caso che come avete imparato dall'algebra in cui non esiste una soluzione di solito perché il problema è sovravincolato avete più vincoli che gradi di libertà e quindi dovremo un attimo capire come possa essere gestito questo problema di stima ecco, allora facciamo un esempio molto semplice l'esempio è quello di una regressione lineare che passa per l'origine nel caso in cui il predittore X sia scalare quindi qui avete Y uguale a θX più V l'idea è che il nostro modello sia una retta per l'origine e abbiamo a disposizione quattro osservazioni le quattro osservazioni sono indicate da queste croci arancioni che corrispondono alla coppia X1-Y1, questa la coppia X2-Y2, quest'altra X3-Y3, questa e X4-Y4, quest'altra ecco, io vorrei trovare una retta per l'origine che approssimi bene questi dati allora, l'idea è abbastanza semplice e consiste nel cercare di ridurre la distanza tra la retta e i miei dati sperimentali quindi definisco questi residui che sono dati da Y con I meno Y cappello I cosa intendo indicare con Y cappello I? con Y cappello I indico la previsione dell'iesimo dato che viene fornita dal mio modello nel nostro caso dal modello lineare costituito dalla retta quindi in questo caso Y cappello 1 sarà questo pallino rosso Y cappello 2 sarà quest'altro pallino Y cappello 3 questo Y cappello 4 questo in corrispondenza di ciascuna di queste previsioni posso calcolare la differenza tra YI e Y cappello I quindi qui per esempio Y1 meno Y cappello 1 la differenza ha un valore che è dato dalla lunghezza il modulo della differenza è dato dalla lunghezza di questo segmento questo che ho un po' evidenziato in verde quindi qui avete il residuo Y1 qui allo stesso modo avrete il residuo Y2 il residuo Y3 il residuo Y4 ecco l'idea per trovare un buon modello è fare in modo che questi residui siano piccoli e in particolare cercheremo di fare in modo che la somma dei quadrati di questi residui sia piccola quindi il nostro, la nostra cifra di merito, il nostro termine da minimizzare sarà dato da Y1 al quadrato più Y2 al quadrato più Y3 al quadrato più Y4 al quadrato e in questo caso l'idea sarà che voi potete prendere tutte le possibili rette che passano per l'origine che quindi sono caratterizzate da teta e al variare di teta queste rette si sposteranno e spostandosi faranno aumentare o diminuire il valore di questi residui e il nostro compito sarà trovare il valore di teta tale per cui la somma dei quadrati dei residui risulti minimizzata ecco, naturalmente questo deve essere formulato nel caso generale ma non è difficile, basterà definire un vettore Y dei residui che ha le stesse dimensioni del vettore delle osservazioni delle risposte che è definito come Y-Y cappello dove per Y cappello abbiamo detto la previsione fornita dal modello ma la previsione fornita dal modello è FI per teta, ovviamente e la somma dei quadrati dei residui in inglese Samos squared residuals, quindi SSR è la sommatoria dei residui al quadrato questa è la norma al quadrato del vettore Epsilon che abbiamo appena definito che può anche essere scritta come Epsilon trasposto per Epsilon Epsilon trasposto vi ricordo è un vettore riga Epsilon è un vettore colonna quindi questo prodotto mi dà uno scalare ma d'altronde questa è la sommatoria di scalari al quadrato può anche essere scritta come Y-Fi teta trasposto per Y-Fi teta ricordando quella che è la definizione del residuo e di nuovo l'idea è quella di cercare tra tutte le teta possibili quel vettore che minimizza la mia SSR ecco, a questo punto viene il nostro soccorso Gauss potremmo dire abbiamo questo teorema teorema diciamo in qualche modo fondamentale che dice che sotto un'ipotesi che prende il nome di condizione o ipotesi di identificabilità ovvero che il rango di Fi sia uguale Q vi ricordo che noi abbiamo ipotizzato che N sia maggiore o uguale Q quindi dire che il rango quando avete una matrice rettangolare il suo rango non può essere maggiore della dimensione più piccola quindi se avete una matrice 3x4 il suo rango non può essere maggiore di 3 allora, siccome Q è la dimensione più piccola chiedere che il rango di Fi è uguale Q è anche la stessa cosa che chiedere che Fi sia rango pieno ecco, allora supponendo che Fi sia rango pieno o comunque che il rango di Fi sia uguale al numero dei parametri incogniti si può affermare che la cifra di merito data dalla somma dei quadrati dei residui ha un minimo globale in corrispondenza di teta LS LS sta per least squares, minimi quadrati definito in questo modo Fi trasposto Fi alla meno 1 per Fi trasposto Y quindi abbiamo in qualche modo risolto il problema della stima ecco, di questo risultato diamo anche una dimostrazione e quindi adesso procederemo passo passo per dimostrare tutti i punti fondamentali la prima cosa da dimostrare è che effettivamente si può calcolare questa inversa e quindi mostreremo che se il rango di Fi è uguale a Q il determinante di Fi trasposto Fi è diverso da 0 infatti, se per assurdo il determinante fosse uguale a 0 vuol dire che esiste una X diversa da 0 un vettore X tale che Fi trasposto Fi per X è uguale a 0 naturalmente, se pre-multiplico per X trasposto ottengo X trasposto Fi trasposto Fi X uguale a 0 ma questo si vede subito che è come dire è che la norma di Fi X al quadrato è uguale a 0 il che naturalmente la norma di un vettore è 0 se solo se il vettore è 0 quindi Fi per X è uguale a 0 il che significa che la matrice Fi ha delle colonne linearmente dipendenti attraverso una combinazione lineare con i coefficienti X con 1 X con 2 X con Q e pertanto possiamo dire che se le cose stanno così avendo delle colonne linearmente dipendenti il rango della matrice Fi non è pieno in particolare non è uguale a Q ed è minore di Q il che rappresenta un assurdo perché noi abbiamo ipotizzato che il rango di Fi fosse quantomeno uguale a Q procediamo ora alla dimostrazione che θ LS è un minimo globale per la cifra di merito allora il JLS ha questa espressione e qui ricorro a un trucco molto semplice cioè tolgo meno Fi θ LS e aggiungo qui Fi θ LS e raggruppo un termine Y meno Fi θ LS e qui invece un altro termine Fi che moltiplica θ meno θ LS qui diciamo è assolutamente è solo la trasposta questo pezzo quindi procedo allo stesso la trasposta a questo tra parentesi tonda e la trasposta di questo tra parentesi tonda quindi procedo nello stesso modo e a questo punto mi ritrovo a fare il prodotto di questo binomio cioè per esempio di fare il quadrato di un binomio adesso naturalmente qui siamo nell'ambito delle matrici e quindi non si può scrivere al quadrato perché questi sono dei vettori ma diciamo devo fare tutti e quattro i prodotti allora il primo prodotto è YLS trasposto per YLS questo che chiameremo JLS è un termine che non dipende da θ ovviamente infatti se guardate qui c'è Y che sono dei dati Fi sono dati del problema θ LS diciamo anche è data da una formula che dipende dai dati del problema quindi qui non c'è θ e qui ho i termini incrociati un primo termine incrociato un altro termine incrociato ecco quando fate il quadrato di un binomio nel caso scalare avete il doppio prodotto nel caso in cui lavorate con i vettori dovete scrivere entrambi i termini incrociati anche se vedremo tra un attimo che c'è una semplificazione e da ultimo c'è questo termine che è un po' come se fosse il quadrato di questo ma anche questo nel caso nel caso vettoriale ecco l'osservazione che facciamo subito è che YLS trasposto per Fi di θ meno θ LS è uno scalare e pertanto se io calcolo il suo trasposto quindi prendo questo ne faccio il trasposto il trasposto deve essere uguale a lui nel senso che essendo una quantità scalare fare il trasposto di uno scalare non cambia il valore quindi questo termine è uguale a quest'altro termine questo è importante perché mi fa capire che questo e questo in realtà sono uguali tra di loro quindi non c'è bisogno di scriverli separatamente ma posso scriverli semplicemente come due volte θ meno θ LS trasposto Fi trasposto Epsilon LS e invece questo lo lascio stare così com'era a questo punto mi concentro su questo termine mostrando che questo termine effettivamente è uguale a zero com'è che si fa vedere che è uguale a zero lo riscrivo qui mi ricordo che Epsilon LS è Y meno Fi Theta LS poi vado avanti al posto di Theta LS scrivo la sua formula Fi trasposto Fi alla meno 1 Fi trasposto Y arrivo qui ecco qui ho Y meno queste matrici per Y posso prendere Y e raccogliere a fattore comune a destra ecco ricordate sempre che stiamo lavorando con prodotti matrice vettore quindi devo stare attento che i raccoglimenti si possono fare a destra o a sinistra in questo caso se vedete è come se fosse identità per Y meno tutto questo termine matriciale fatto con le Fi per Y a questo punto raccolgo Y e mi rimane questo faccio un ulteriore calcolo qui ho Fi trasposto per identità e poi Fi trasposto per Fi Fi trasposto per Fi alla meno 1 Fi trasposto ma Fi trasposto per Fi moltiplicato l'inversa di Fi trasposto per Fi ovviamente è uguale all'identità quindi mi riduco a calcolare Fi trasposto meno Fi trasposto che è uguale a 0 e quindi ho mostrato che effettivamente questo è uguale a 0 ecco quindi questo termine in mezzo è uguale a 0 quindi mi rimane solo questo e quest'altro e quindi questo è il risultato finale quindi io posso dire che la cifra di merito del problema dei minimi quadrati è data da un termine che non dipende da teta una costante potremmo chiamarla più questo termine ecco questo termine ho semplicemente riscritto questa in una maniera facilmente comprensibile allora essendo una norma al quadrato capite subito che questo è sempre maggiore o uguale a 0 e tra l'altro capite che se metto teta uguale a teta all'es riesco ad annullarlo più che annullarlo non posso farlo quindi è chiaro che jls di teta è minimo quando metto teta uguale a teta ls quindi è un punto di minimo rimane un ultimo passaggio cioè mostrare che questo effettivamente è un minimo un minimo globale allora per assurdo se teta se ci esistesse un teta diverso da teta ls che azzera questa espressione azzerare questa espressione vuol dire aver trovato un altro minimo perché siccome per teta uguale a teta ls questa è zero se esiste un minimo se esiste un altro punto di minimo quest'altro punto di minimo deve essere un teta che anche lui riesce ad azzerare questo altrimenti non è un punto di minimo allora se esiste un altro teta tale che questa espressione è uguale a zero posso dire che fi per x è uguale a zero con x uguale a teta meno teta ls diverso da zero ma dire che fi per x è uguale a zero vuol dire che fi ha colonne linearmente dipendenti e quindi che il suo rango è minore di q e quindi questo assurdo che abbiamo mostrato che è anche un minimo globale ecco cenno molto veloce agli aspetti computazionali noi abbiamo dato il teorema con la formula esplicita ma nella pratica non conviene praticamente mai risolvere problemi minimi quadrati usando quella formula e andando a calcolare esplicitamente l'inversa in generale quando si risolvono problemi di algebra lineare è quasi sempre da evitare il calcolo esplicito dell'inversa cioè piuttosto si prende il sistema di equazioni lineari associato a quell'inversa e si risolve il sistema di equazioni lineari perché i metodi numerici per risolvere il sistema di equazioni lineari risultano più efficienti quando vengono applicati che calcolare esplicitamente l'inversa e poi calcolare il prodotto dell'inversa per qualcos'altro quindi se dovete risolvere ax uguale a b non vi conviene calcolare l'inversa di a e poi fare l'inversa di a per b ok vi conviene risolvere il sistema di equazioni ax uguale a b questo diciamo nella gran parte dei casi quindi anche in questo caso piuttosto che passare attraverso il calcolo esplicito dell'inversa si passa attraverso la soluzione numerica delle cosiddette equazioni normali quindi si ha questo sistema di equazioni lineari e voi vedete subito qui che se io prendo phi trasposto phi alla meno 1 e lo moltiplico a sinistra e a destra entrambi i termini per phi trasposto phi alla meno 1 ottengo proprio l'espressione di theta ls perché avrei phi trasposto phi alla meno 1 per phi trasposto y però diciamo si risolve questo sistema di equazioni normali con degli algoritmi diciamo specializzati per questo tipo di sistema e la cosa che si vede subito è che se il rango di phi uguale a q esiste una soluzione unica alle equazioni normali e nel caso di MATLAB se volete diciamo risolvere dei problemi minimi quadrati non dovete scrivere la formula esplicita ma c'è un comando che risolve le equazioni normali e il comando è molto semplice scrivete theta uguale phi backslash y questa diciamo questa semplice riga di codice risolve il sistema delle equazioni normali e vi restituisce theta ls qual è l'interpretazione grafica beh direi che vale la pena dare un occhio l'interpretazione grafica che ovviamente io vi posso dare solo quando ho un numero di parametri piccolo quindi lo posso fare per q uguale a 2 quindi qui avete theta 1 e theta 2 la cifra di merito la ssr la somma dei quadrati dei residui se soddisfatta la condizione di identificabilità è una specie di paraboloide è un paraboloide di questo tipo che ovviamente ha un solo punto di minimo il punto di minimo è in corrispondenza di theta ls che ha come coordinate theta 1 ls e theta 2 ls ecco il punto cruciale che se il rango di phi è uguale a q il determinante di phi trasposto phi è uguale a 0 e qui avete effettivamente un paraboloide con un unico vertice che è il punto di minimo che mi viene fornito dalla formula risolutiva dei minimi quadrati cosa succede invece quando il rango di phi è minore di q ecco si può vedere che in questo caso non avete più un paraboloide per esempio se il rango di phi fosse uguale a 1 invece che 2 in questo caso avete questa specie di foglio di foglio ripiegato questa specie di foglio ripiegato che ha la caratteristica di avere infiniti punti di minimo i punti di minimo costituiscono un sottospazio e questo sottospazio è il sottospazio delle soluzioni delle infinite soluzioni delle equazioni normali perché quando il rango di phi è minore di q si può mostrare che le mie equazioni normali ammettono ancora soluzione ma ammettono infinite soluzioni se il rango di phi è uguale a 1 in questo caso le infinite soluzioni vengono a formare una retta nel piano teta 1 teta 2 ecco direi che quindi dal punto di vista diciamo delle rappresentazioni grafiche questo dovrebbe bastarvi è interessante che ci sono anche delle situazioni intermedie cioè naturalmente questo paraboloide può diventare littico sotto certe condizioni e in qualche modo allungarsi 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 lungo qualche direzione fino a un certo punto diventare adesso è difficile dire che diventi vicino a questa espressione a questo foglio ripiegato però a un certo punto di fatto basta una piccola perturbazione per passare da un paraboloide ellittico estremamente allungato a questo tipo di superficie ecco vediamo da ultimo un esempio di regressione lineare prendiamo il caso più semplice possibile per applicare la formula che abbiamo appena imparato una retta per l'origine come nel caso del resistore questa potrebbe essere la rappresentazione qui sono alcuni punti sperimentali dicevamo quando siete nel dubbio scrivete le equazioni una per ciascuna osservazione quindi prima osservazione y1 uguale u con 1 θ più v con 1 la seconda scriverete la ennesima avrete yn uguale u con n per θ per v con n in forma matriciale si scrive in questo modo ovviamente un modello lineare la matrice phi è data dalla colonna u con 1 fino a u con n l'ipotesi di in questo caso l'ipotesi di identificabilità è che questo vettore non sia identicamente uguale a 0 e a questo punto applichiamo la nostra formula applicando la formula phi trasposto è un vettore riga phi è un vettore colonna qui di nuovo avete il vettore riga delle u qui la colonna delle y fate alcuni calcoli veloci e scoprirete che la mia stima ai minimi quadrati è dato dalla sommatoria dei prodotti u con i y con i diviso la sommatoria delle u con i al quadrato qui ovviamente non c'è infinito c'è un n a furia di scrivere serie mi è scappato un infinito per sbaglio ecco e questo diciamo può bastare grazie a tutti grazie a tutti